La giunta rapisarda Gravina di Catania ha deciso di affidare anche per l'anno 2016 la gestione del cimitero comunale alla partecipata AGT Multiservizi. Per realizzare tutte le manutenzioni necessarie al mantenimento della struttura cimiteriale saranno necessari 89.000 euro. Tra l'altro il cimitero rientra tra i compiti della partecipata costituita nel 2005 insieme all'imitrofo comune di Tremestieri e Tneo. La GT deve infatti occuparsi oltre che delle manutenzioni al cimitero anche di quelle delle strade, del verde e degli edifici pubblici oltre che di affissione e pubblicità.